Molti parlano di andarsene, lavorare fuori, vivere fuori, studiare fuori, amare fuori. In fondo cerchiamo solo un posto dove stare, una casa. A volte sembra di perdersi, cercando la strada. Il proprio posto nel mondo. Eppure forse quel che cerchi è più vicino, più vicino di dove pensavi di trovare. Cose piccole. Forse grandi. Non importa da dove vieni o di dove sei. Tiene il ritmo. E questo il segreto. Prepariamoci. La città è qui. Che ci aspetta. E scoprirai che è già tutto intorno a te. Grazie. Grazie a tutti.